Per effettuare la lavorazione, versare una quantità adeguata di multi-decor diluito con il 20% di acqua potabile su di una tavolozza di legno e bagnare la parte piatta della speciale spugna marina. Scaricare l'eccesso di prodotto sulla parte pulita della tavolozza. Tamponare la superficie su cui si era precedentemente applicato il prodotto di fondo prescelto, ripetendo l'operazione fino al completamento della parete. È possibile applicare una seconda e una terza tinta di multi-decor senza tendere la completa essiccazione del prodotto, ottenendo così un effetto policromatico molto particolare.